Il progetto MED si tende a riutilizzare il materiale medicale, quindi stiamo parlando di RAE professionali, impegnativi, che oggi giacciono nelle cantine, nei magazzini degli ospedali, di molti ospedali delle nostre città, completamente abbandonati. Questi materiali sono ancora un valore, sono ancora un'opportunità, non solo perché possono essere riciclati come materiali, ma possono essere rigenerati per la loro funzione specifica sanitaria. Questo quindi è un progetto che entra proprio nel vivo dell'economia circolare, cioè vuole trasformare il rifiuto, non solo in un recupero di materiali, ma una rigenerazione delle sue funzioni. Così sono le indicazioni dell'Unione Europea, così il progetto MED si mette all'avanguardia nel puntare a prodotti di grande valore economico, di grande importanza e di grande utilità sociale, perché possono avere ancora una vita di riutilizzo all'interno di un processo di certificazione e quindi che mette il materiale nella sicurezza di essere utilizzato. Abbiamo fatto un'indagine presso 80 ospedali in Italia prevalentemente, ma anche alcuni nel resto d'Europa, per capire come funzionasse il processo di gestione delle apparecchiature mediche, che è il processo che poi genera i rifiuti. Il risultato è poi che gli scantinati delle strutture sanitarie finiscono per essere pieni di rifiuti, di attrezzature rifiuti. Ci occupiamo di un'attività molto importante che è il Life Cycle Assessment, vale a dire una valutazione di quelli che sono i benefici ambientali che sono conseguibili sostanzialmente grazie al sistema di gestione delle apparecchiature che viene promosso nel progetto rispetto invece alla situazione attuale. E questo lo facciamo adottando la cosiddetta ottica del ciclo di vita, cioè tenendo conto di tutte le fasi della vita di un'apparecchiatura. Ecco l'idea che allungando la durata della fase di utilizzo di un bene, questo sia uno dei modi più efficaci per ridurne l'impatto ambientale nel suo complesso. Cauto è capofila del progetto e nello specifico, nell'attività operativa, si occupa di fare uno screening delle attrezzature medicali dismesse dagli ospedali per verificare quali di queste attrezzature sono rifiuti e quindi sono inutilizzabili e vanno quindi smontate e separate e mandate a riciclo per i materiali e a smaltimento oppure riutilizzabili e quindi inviate al partner medicus mundi attrezzature. Non sempre all'interno degli ospedali pubblici o privati c'è un'analisi puntuale di quanto viene scartato o dismesso. Sappiamo che il periodo per i paesi sviluppati è di circa 4-5 anni ad attrezzatura e quindi in base anche agli acquisti delle attrezzature del nuovo è ipotizzabile uno scarto in termini di quantità e di valore economico molto molto ingente. MediCosmondi recupera attrezzature che vengono dismessi dai nostri ospedali perché obsolete, perché c'è il passaggio alla tecnologia digitale ma che possono essere utilizzate da altre realtà che hanno diciamo meno pretese tecnologiche ma per cui sono di vitale importanza. Revisiona queste attrezzature, le collauda, le rimette a nuovo quando possibile e poi le redistribuisce soprattutto in realtà no profit che sviluppano progetti di cooperazione internazionale. In un anno abbiamo recuperato una quantità come peso di circa 50 tonnellate che altrimenti sarebbero state smaltite come rifiuto e attrezzature andate al macero. In questo momento l'accesso a queste attrezzature è difficoltoso per vari motivi, problemi burocratici o legislativi che non permettono il pieno recupero di queste attrezzature. Grazie a tutti.